Il traversione Alessi GOOOOOL! Parte Alessi, il tiro GOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOL della Reggiana! Alessi contro Marconne, il tiro GOOOOOL! Il GOOOOOL di Giuseppe Alessi! Alessi, me lo metti in cassaforte? Me lo metti in cassaforte? GO GO GOOOOOL! Ancora Catellani, Catellani in area, il traversione, il GOOOOOL di Alessi! Disimpegno, attenzione ad Alessi, prova il tiro ad Alessi e GOOOOOL! Alessi dai 25 metri coglie impreparato Dossena e porta in vantaggio la Reggiana! Tino Alessi può avanzare! Alessi, grandissimo gol! E poi Alessi va a baciare il... Non so se è l'anello o il braccialetto! GOOOOOL! 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 Nella prima divisione! E' una favola! E' una favola! E' una favola questo gol! Lo ha visto! E solo lui lo poteva fare! solo Beppe Alessi che poi crolla per terra e tutti intorno ad applaudirlo solo lui lo poteva fare solo Beppe Alessi poi cerca di aggirarlo non vi riesce ma il pallone finisce a Maschio che lo gioca per Alessi da questi a Saverino da Saverino a Via Piana bella azione della Reggiana si smarca Rossi sulla sinistra Rossi però già chiuso ma gioca un grandissimo pallone per Via Piana Alessi è solo Alessi è Alessi ed è gol strepitosa azione manuale del calcio strepitosa azione della Reggiana grazie a tutti Grazie a tutti. Probabile via piana con il dentro, no, Alessi con il sinistro ball di Beppe e Alessi, diciannovesimo minuto e Beppe e Alessi chiama tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Goal di testa con il tocco di precisione. Alessi, Alessi può arrivare al tiro, Alessi ci prova, il gol, bravissimo il gol di Alessi. Palla giocata per Alessi, attenzione Alessi! E' dal 2-0 e siamo all'incrocio dei pali anche con Alessi. Riesce a farsi rispettare Alessi di testa! Alessi di testa, Alessi di testa, 27esimo minuto! Tiro di Alessi, e Alessi diventa il goleador della Reggiana, 22 minuti del secondo tempo. Terzo gol in campionato di Alessi. Alessi... Quinto minuto del secondo tempo. pallone in gol! Alessi deve Alessi! Fischia l'arbitro! Parte Alessi, tiro gol! 2-0! 2-0, raddoppio della Reggiana! Rossi, il pallone per Arati, c'è in mezzo Alessi! Alessi, Alessi, gol! Di Beppe Alessi, 31esimo minuto! Tiro di Alessi, gol! Di Beppe Alessi! La punizione di Beppe Alessi! E poi con calma gioca bene per Schwager! Attenzione, Alessi! Il pallonetto di Alessi! E sono 10 gol in campionato! Per il calcio! Fischia l'arbitro! Alessi, tiro gol! Alessi contro Gazzoli! Alessi, tiro gol! Quarantacinquesimo minuto! Alessi contro Brignoli! Alessi, tiro gol! E sono 13! Il pallone con la borsa! Alessi, tiro gol! Alessi, tiro gol! ilatedro! Il pallone e da 24! Il pallone e da 24! Il pallone e da 23! Alessi, tiro gol! Il pallone e da 24! Grazie a tutti.